La situazione del tempo La situazione del tempo Vediamo il tempo previsto fino alla mezzanotte di oggi Avremo al nord cielo sereno o poco nuvoloso Con locali addensamenti sul settore orientale Al mattino e al tramonto Nebbie foschie e dense Sulle zone pianeggianti e nelle valli Al centro e sulla Sardegna Cielo sereno o poco nuvoloso Con locali addensamenti sul versante adriatico Al mattino e dopo il tramonto Foschie dense e locali banchi di nebbia Sulle zone pianeggianti e lungo i litorali Al sud della penisola e sulla Sicilia Cielo sereno o poco nuvoloso Con locali addensamenti Sulle zone interne e su quelle ioniche La temperatura sarà in lieve aumento Nei valori massimi I venti deboli e moderati I mari mossi Il mar Ligure Il mare di Corsica Il basso ionio Poco mossi o quasi calmi I restanti mari E' tutto per oggi IlDaniel Il Il Il